Soltanto chi è ignorante o in mala fede può dire che noi nascondiamo i dati del contagio. Vergogna. Basta sapere che i flussi dei dati che arrivano a Roma sono due. Un flusso è quello dell'Istituto Superiore della Sanità ed è quello che determina il colore di una regione. L'altro flusso è quello della protezione civile. La ricognizione dei due dati è diversa e determina un disallineamento fra i due flussi. I 258 casi di decessi emersi ieri sono il risultato del periodico allineamento che si fa fra i due flussi ed è un episodio che avviene non soltanto in Sicilia ma in molte regioni d'Italia e in diversi paesi europei. Ma i 258 decessi emersi ieri nell'allineamento erano già caricati nella piattaforma dell'Istituto Superiore della Sanità. Quindi non hanno determinato assolutamente alcuna influenza. Ecco perché mi chiedo, ma dopo questo sforzo enorme che stiamo compiendo, dopo aver mobilitato migliaia e migliaia di operatori sanitari, dopo essere stati, dice il generale Figliuolo, venuto l'altro giorno in Sicilia, fra le prime regioni italiane nella campagna di vaccini, ma perché dobbiamo farci del male? Ma perché speculare persino in tempo di pandemia? Ma perché essere nemici della nostra terra? Basta! La Sicilia ha bisogno di essere rasserenata. La Sicilia ha bisogno di rivivere un clima di collaborazione reciproca. E agli operatori economici, che sono davvero quelli che più stanno avvertendo il peso della pandemia, voglio ricordare che stiamo aspettando ancora che le risorse e i ristori arrivino da Roma e per quanto riguarda noi abbiamo già stanziato 250 milioni l'altro giorno, più 100 milioni con l'ABEI, per poter dare finalmente la possibilità di ripartire non appena la condizione epidemiologica lo consentirà.